Per rafforzare le azioni di integrazione fra il mondo della ricerca e quello delle imprese, l'Università La Sapienza di Roma e Unindustria hanno unito le loro forze firmando un accordo quadro che le vedrà collaborare su più fronti, ad esempio in attività di ricerca, sviluppo e innovazione che coinvolgono in particolare aree di innovazione a forte impatto territoriale, o promuovendo la cultura scientifica e tecnologica sul territorio regionale e nazionale attraverso le imprese che partecipano a Unindustria, o ancora organizzando stage e tirocini formativi presso le piccole e medie imprese associate a Unindustria, perché, come ha tenuto a precisare il Rettore Luigi Frati, l'Università va considerata la stregua di una vera e propria impresa. Quali saranno i vantaggi per gli studenti che derivano da questo accordo con Unindustria? Per gli studenti sono in parte un miglioramento della didattica, perché andando anche a fare stage nell'industria si torna dal professore e si fa insegnare qualcosa in più. Per l'industria il vantaggio è quello di poter avere una platea di ragazzi importanti, giovani, motivati, e quindi poterli prendere prima. Ancora per gli studenti è quello magari di poter entrare in mondo del lavoro prima e meglio, correlati con quello che si è appreso. Quindi uno dei grandi difetti del sistema formativo italiano, che è quello di non guardare abbastanza al mondo dell'innovazione e al mondo dell'occupazione, in realtà noi questo gap lo stiamo colmando. Lei ha lanciato una provocazione, ha detto che la sapienza, quindi l'università, dovrebbe essere considerata una vera e propria impresa e quindi rientrare tra i soci di un'industria? La sapienza è un'impresa, noi faremo formalmente, adesso mi metto accordo con il presidente Regina, faremo formalmente la domanda di entrare in un'industria. Noi abbiamo bisogno di innovazioni, in particolare il nostro territorio dove insistono distretti di altissima specializzazione e innovazione tecnologica. Quindi abbiamo bisogno di un patrimonio di risorse umane che esce dalle università e che capisce le esigenze delle imprese e che sposa le necessità che oggi il sistema industriale ha di innovarsi continuamente. Quindi sulla base di questo protocollo costruiremo dei percorsi non solo formativi ma dei percorsi proprio di connessione in termini di commissioni miste che ci permetteranno di meglio indirizzare gli studi e meglio poter utilizzare, ripeto, quel patrimonio che ogni anno viene sfornato da questa università. Lei ha detto che avete messo a punto un portale web proprio per favorire l'accesso alle piccole e medie imprese. Sì, noi abbiamo circa il 90% dei nostri associati che sono piccole e medie imprese, quindi sotto i 100 dipendenti che hanno indubbiamente più difficoltà a mettere risorse per quello che riguarda l'innovazione. Dall'altra parte abbiamo un patrimonio di brevettuale o comunque di progettazione che oggi non viene utilizzato e che rimane nel mondo universitario e nei centri di ricerca. Il portale ci è sembrato la soluzione migliore tecnologica per cui oggi le università ci forniranno delle schede progetto molto semplici con la loro idea, la loro dinamica, le implicazioni, le metteranno su un portale sul quale le nostre 4.000 piccole e medie imprese potranno trovare eventualmente idee per implementazione a livello industriale. Spesso sono progetti che la grande impresa non vuole perseguire o che non hanno economie di scala, mentre la piccola impresa potrebbe. Da questi primissimi riscontri stanno avendo molto successo in termini di accessi. Sia il Rettore Frati che il Presidente di un'industria regina hanno espresso un parere sostanzialmente negativo della manovra finanziaria del Governo. È stata una manovra sostanzialmente finanziaria, non è stata una manovra di sviluppo, nel senso che nessuno nega che bisogna ridurre il peso della finanza pubblica e quindi vanno tagliati, ma io penso ai comuni che hanno 100 abitanti, 200 abitanti, penso alle duplicazioni fra le competenze della provincia e quella delle comunità mondane o le comunità valligiane, ci sono anche queste e così via. C'è bisogno di semplificare i costi della politica, ridurla a quella che è essenziale, serve per davvero ai cittadini, levare norme che non servono a nulla. È una manovra importante dal punto di vista dei saldi finanziari, era più che necessaria e da questo punto di vista averla approvata velocemente con un consenso molto ampio, con un Presidente della Repubblica che si è fatto garante della manovra, io credo che sia di estrema importanza. Lo è deludente dal punto di vista dei contenuti per quello che riguarda lo sviluppo futuro, è una manovra in gran parte fatta di prelievi fiscali, ripeto necessari probabilmente in questa fase, però mancano quelle componenti in grado di attivare il sistema economico in una misura tale da riprendere quel cammino di crescita che poi è alla base di tutto. Se il Paese non cresce e non cresce a dei livelli mediamente sostenuti, tutto il resto non regge perché non siamo in grado di pagare gli stipendi, non siamo in grado di pagare gli interessi, soprattutto in un clima di tassi di interesse che tendono a crescere, quindi la priorità è sulla crescita, noi su questo insistiamo da tempo, in questo decreto ripeto necessario e quindi assolutamente fondamentale sia stato approvato, manca quelle componenti che possono attivare. Dove possono essere? Sono sul fronte delle liberalizzazioni, sono sul fronte delle privatizzazioni perché naturalmente nessuno di noi chiede che si vada in ulteriore spesa pubblica, quindi tutto quello che stiamo proponendo in termini progettuali è a saldo zero, quindi sul fronte delle liberalizzazioni, privatizzazioni, ricerca e innovazione, cioè tutto quello che ripeto può farci riprendere nel tempo di breve e medio-lungo termine.